Matteo sei te, ok, ok. Allora ragazzi, dopo che mi ha preso per il culo in console è arrivato Marchetta di Torno e DJ di Notte per gli amici da Gariselli, per voi all'99 from Vanity Beat Matteo Gariselli! Sama cresceteteci! Sama cresceteteci! Allora vi ricordo che lo considero uno stile di vita Valentina con un pari di vizio, tocca a Risaldi Letty o Simone, questo è il problema